ciao raga eccoci qua abbiamo messi sì lassù siamo io e christian benvenuto qui a trovare in officina si vede male va bene raga questo è nulla pespina non la pespina lui a trovarmi ora ci si mette a armeggiare siamo qui a si può girare no no si può girare siamo a finire di montare i big steps qui un guardati volano per i pignoli che le quella puntine l'ho messo per provare per girando perché dovevo centrare l'arbero va bene questo lei il mostro o dai bu centri pollici dentro il pollici cento vai raga un saluto da tigreat e chris mirelio e christian ciao raga